Ciao, io sono Alessandro e vorrei provare a spiegarvi perché dovreste scegliere il job station per le vostre aziende. Io ho le prove concrete che funzioni, ormai è qualche anno che ho in staff una job stationer a cui ho segnato una serie di attività di back office relative ai contratti di cui mi occupo, liberando così spazio nell'agenda dei miei collaboratori. Ho anche diverse volte visitato i centri dove svolgono il loro telelavoro e non sapete quanto vorrei mutuare quel modello di pace e tranquillità anche nei nostri open space aziendali che sono spesso così caotici, ma alla fine l'obiettivo resta comunque quello di riportarli progressivamente anche a vivere un'esperienza aziendale fisicamente presenti, perché alla fine le persone di job station sono delle risorse nel senso più nobile del termine, perché le storie di disagio psichico che hanno alle spalle vi rendono motivati non da un'ambizione di carriera ma bensì dalla semplice voglia di tornare ad una vita normale, di sentirsi utili produttivi e soprattutto parte di una squadra. E chi fan manager come me ormai da qualche anno sa cosa significa lavorare veramente con persone motivate e che clima positivo questo fisiologicamente porta all'interno di tutto il team. Job station è un'esperienza che mi ha arricchito, mi ha insegnato il valore dell'includere noi come diversamente unici e sono fermamente convinto che se trovassimo il modo di aiutare queste persone a sbrogliare le loro matasse ci ritroveremmo come una forza potenzialmente inespressa fino ad oggi che porterebbe energia alle nostre aziende. E poi sono convinto che se mente, cuore e anima fanno la stessa scelta non può essere che quella giusta e io ho scelto Job Station.